Alcune donne narcisiste non sono sempre ovvie. Possono nascondersi dietro ad una maschera di apparente fragilità, di insicurezza a volte. Addirittura con tratti di altruismo possono anche apparire affascinanti. Ma allora proviamo a dirci cinque tratti non troppo noti che ci possono aiutare ad identificare una narcisista covert. Intanto, se questi argomenti ti interessano, cioè la psicologia, psicologia applicata alla vita, alla crescita personale, al miglioramento di sé, puoi iscriverti al mio canale YouTube Fabio Mazza in cui ogni settimana pubblico un nuovo video ed in cui potrai trovare altri video che potrebbero interessarti. Esistono due sottotipi fondamentali di narcisismo. Il narcisismo aperto o grandioso, che è quello più conosciuto, anche molto più tipicamente maschile, che è caratterizzato da audacia, da aggressività e anche un po' di arroganza. Ed il sottotipo, invece, covert o nascosto, che è un tipo di narcisismo già di per sé un po' meno studiato, che si presenta con ipersensibilità, con un atteggiamento difensivo e persino a volte con tratti di timidezza, che è più difficile da identificare, perché si nasconde un po' dietro a dell'autoironia e non si adatta all'idea tradizionale che noi abbiamo di narcisismo. Ma la maggior parte delle narcisiste donne, in realtà, sono delle narcisiste nascoste o covert. Forse anche per un motivo culturale, cioè alle bambine viene insegnato a sopprimere certi tipi di impulsi aggressivi, di dominio, mentre ai ragazzi viene insegnato il contrario, cioè ad essere aggressivi, ad affermarsi, comunque imporre del coraggio e della forza. Ma chi è, quindi, allora, la donna narcisista nascosta? È una donna egocentrica, che usa l'aggressività indiretta per manipolare gli altri ed ottenere ciò che le va a suo vantaggio. Si considera sicuramente un essere superiore agli altri ed esige un trattamento speciale, ma come tutti i narcisisti, al contempo ha un ego molto fragile che ha bisogno di continuo sostegno da parte delle persone vicine. Allora proviamo ad elencare cinque tratti di una narcisista covert o nascosta. Il primo è che si aspetta che le persone che ha intorno, soprattutto quelle più vicine, affettivamente, il compagno, il figlio, la figlia, il marito e l'amica del cuore, siano capaci di indovinare ciò di cui lei ha bisogno. Non ritiene adeguato per se stessa il dover chiedere qualcosa a qualcun altro e quindi fa in modo che gli altri sentano la responsabilità di leggerla nel pensiero, di indovinare ciò di cui ha bisogno. E riesce a instillare in queste persone un senso di responsabilità tale che si sentono proprio il compito di dover indovinare ogni volta gli stati d'animo della persona vicina perché non riesce nemmeno a comunicare le proprie emozioni oltre che i bisogni e quelle le fa intuire facendo provare le emozioni che lei stessa prova, quindi se è arrabbiata, facendo arrabbiare gli altri, cioè le persone vicine. E sebbene lei non mostri nessun tipo di empatia nei confronti degli altri, si aspetta che le persone che ha intorno siano ipersensibili e super capaci di comprendere tutto ciò che lei prova, aiutandola a stare meglio. E se questo non avviene, farà sentire quelle persone in un senso di vergogna o un senso di colpa per non essere riusciti nel compito di aiutarla. E questo potrebbe essere uno dei motivi per cui figli dei narcisisti diventano molto sensibili alle emozioni degli altri, molto capaci di indovinarle e diventano anche molto capaci di anticipare i bisogni delle persone che hanno intorno. Perché fondamentalmente gli è stato insegnato che i loro bisogni non sono molto importanti quanto almeno quelli della persona narcisista del proprio genitore e che devono essere soddisfatti prima di tutti gli altri. Quindi è possibile che questi bambini sviluppino un'incapacità a stabilire dei limiti rispetto alla relazione, a dare delle priorità rispetto alle situazioni che stanno vivendo emotivamente. Secondo tratto, lei tira fuori il peggio di te. È la tipica persona che ha sempre qualcosa da dire rispetto agli altri, qualche critica da fare. Con gli estranei di solito lo fa alle spalle, non esponendosi quasi mai, in maniera molto indiretta. Ma quando si tratta delle persone proprio vicine a sé, cioè ai propri familiari, alle persone importanti, lo è terribilmente, in modo molto pungente e continuo. Così come la madre narcisista nascosta è terribilmente aggressiva, metodicamente aggressiva, nei confronti dei propri figli, in modo da lederne la loro indipendenza e autostima, così fa la donna covert nei confronti del proprio compagno e del partner. Nello stesso modo cerca di non renderli indipendenti e cerca di renderli insicuri in modo tale che possa manovrarli a proprio piacimento. Terzo tratto, non ammetterà mai di aver commesso un errore. È uno dei tratti più importanti, più caratteristici. Non ammetterà mai di aver sbagliato. E questo, soprattutto in una relazione intima, è fonte di grande sofferenza e frustrazione. Potrebbe succedere addirittura che la incontrate che si sta baciando con un altro uomo e a propria difesa potrebbe anche raccontare che purtroppo è stata costretta dalla vostra assenza, dalla vostra incapacità di amarla a trovare soddisfazione al di fuori della propria relazione, proiettando la responsabilità del proprio tradimento sul partner. E alla fine non discuterete più del tradimento che lei stava facendo nei vostri confronti, ma dell'incapacità che avete avuto di amarla nel modo corretto. Sposterà completamente il senso della discussione. Quarto, una narcisista è patologicamente una bugiarda. Quando voi discutete con una o parlate con una narcisista patologica, il suo significato di onestà o comunque di correttezza, di sincerità è diverso da quello di tutte le altre persone comuni. Per loro è uno strumento per arrivare a ciò che devono ottenere. Quindi saranno disposte a raccontare qualsiasi cosa pur di ottenere il loro vantaggio. Riusciranno a mescolare tra di loro la verità, una mezza verità, una completa bugia, le metteranno tutte insieme e alla fine della discussione o della vostra conversazione sarete voi stessi a dubitare di quello che avete detto, non di quello che dirà lei. Questa tecnica, lo sappiamo, si chiama gaslighting e ne abbiamo parlato diffusamente in un video precedente. Ricordatevi che probabilmente alla fine della discussione sarete voi ad essere accusati di essere dei bugiardi. Quinto, sarà sempre preoccupata che la propria immagine non corrisponda a quella che lei vuole dare alle altre persone. E quale immagine voglia proiettare una narcisista covert dipende da quello che lei ritiene sia la immagine più corretta e migliore che la società vorrebbe da lei. Ad esempio, se una moglie e madre vorrà proiettare l'immagine di colei che si occupa perfettamente di ciò che è la sua famiglia che tutti i suoi membri l'adorino che quindi lei sia sempre a posto rispetto a tutti. Perché quello che lei è importante è di ricevere delle rassicurazioni dagli altri di essere ammirata e per fare questo potrebbe mentire anche rispetto ai propri rapporti a ciò che vive e quindi mettere anche in confusione i membri della propria famiglia con un atteggiamento molto aggressivo all'interno e molto disponibile molto gioioso e generoso all'esterno e nella nostra epoca uno dei mezzi migliori per fare questo è utilizzare i social media quindi utilizzare delle foto che ritraggono usare frasi che rappresentino proprio quello che lei vuole proiettare di fuori e ad esempio se questa narcisista ha anche poca attenzione ai tempi e agli spazi convissuti con la propria famiglia non userà altro che foto sui social per far vedere ogni volta che sta con il figlio con la figlia col marito per far sì che gli altri la ritengano invece una donna molto presente che sa soddisfare tutte le esigenze della propria famiglia ma al contrario se all'interno della famiglia qualche membro commette qualche cosa che va contro l'immagine che lei vuole proiettare o se dice qualcosa della propria madre o della moglie che va contro l'immagine che lei sta proiettando in società da lì potrebbe uscire invece l'altra faccia del narcisista cioè quella aggressiva violenta e vendicativa ed è veramente qualcosa di difficile da sopportare quindi se stiamo vivendo una relazione con una donna che ci sembra insensibile nei confronti dei nostri bisogni che ci chiede sempre di più che è sempre pronta a criticarci che ha sempre il diritto di essere capita che non ammette mai di aver sbagliato che ha tutte queste caratteristiche anche di sentirsi un essere comunque profondamente speciale rispetto a tutti gli altri proviamo a chiederci se potrebbe essere una donna narcisista covert e se così fosse proviamo a chiedere aiuto a uno specialista o a qualcuno a confrontarci per capire come gestire la situazione grazie a tutti